è un orso? no, no, è un cavallo? no, 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 è oland, è oland, forte come un orso, veloce come un cavallo, è un mix, un mix perfetto, atletismo puro, mamma mia, ma che fisico ha questo qua? io lo guardavo e solo a guardarlo dicevo ma è una macchina bionica, è qualcosa di indescrivibile perché poi al di là della tecnica, al di là della tattica, questo è bionico, è pazzesco, è pazzesco, ragazzi lasciamo stare poi il fatto che lo si tende un po' ad esaltare per i gol, che non sono pochi, 10 gol in Champions, 10 gol in Champions, a quanti anni c'ha? io ho perso, non c'è nemmeno 20 anni forse, i numeri ci dettano sempre le regole del gioco, i numeri ce le dettano sempre, poi sta a noi un po' interpretarli questi numeri, ma al di là di questi numeri, veramente, guardatelo, questo veramente si riassume con questo detto che si è guadagnato sul campo, cioè, questo è forte come un orso ed è veloce come un cavallo, un mix perfetto, una macchina bionica. E niente, ragazzi, la porta a casa il Dortmund, signori belli, mi aspettavo quasi ormai, come lo diciamo, cioè, tutti quanti, tutti quanti, un pochettino, da esterni, ogni anno diciamo, ma sapete, quest'anno vedo bene il PSG, quest'anno vedo bene il PSG, quest'anno lo vedo bene, e poi ogni volta siamo qui a dire, e ma mi aspettavo qualcosa in più, ma mi aspettavo qualcosa in più, ma mi aspettavo qualcosa in più. Ovviamente, si sono giocati 90 minuti, ne restano 90 in un palcoscenico diverso, una cosa è il Mestaia, è il Mestaia, è una bolgia, è una bolgia, il sottomarino giallo, sì, è una cosa, è giocare al Parco dei Principi, al Parco dei Principi, bellissimo. Però, ci ho detto, una squadra che ha davanti Bappé, Neymar, Di Maria e a centrocampo, comunque, discreti giocatori come Verratti, ma lo stesso Mugnet e compagnia Bella, da questi giocatori mi aspetto sempre di più. E dire che il Dortmund abbia meritato di vincere è dire una banalità ed è una cosa ovvia. E, attenzione, il Dortmund è una squadra comunque forte, c'è quel sancio, abbiamo esaltato, se vogliamo, Olanda, ma c'è quel sancio, ma quel sancio è qualcosa di divino. E anche lì parliamo di un giocatore abbastanza verde, più verde della mia maglia, ecco. Per cui, per cui, c'è proprio del talento puro in questa squadra, talento che scende in campo per onorarci e per onorare al meglio questo palcoscenico, la Champions League. E, bello, è stata una gara dove, ripeto, ve l'ho detto nel precedente video, ho visto con un occhio Mediaset in TV Live, con l'altro mi sono visto l'iPad, la partita del Dortmund. Partita più bella, quella del Dortmund è stata più bella, più, magari, meno tattica per l'appunto, anche se non si scherza a livello di tattica. Però è una partita più sciolta, più a briglie sciolte. E mi è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo, ripeto, sancio, ma, 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 ma aspettavo, ma aspettavo qualcosa in più del PSG. Diciamo sempre questo, che poi se l'andiamo, se l'andiamo a vedere, cioè il PSG porta a casa un risultato, porta a casa un gol, non risultato ad un gol, grazie unicamente ad un giocatore che veramente ha una stoffa, una stoffa che è proprio, una stoffa che è diversa. E anche qui parliamo, anche qui parliamo di atletica, perché poi anche Mbappé, prima della tecnica e di fare qualsiasi discorso appunto tecnico, lì parliamo di un giocatore che è un corridore, cioè parte da fermo, salta come gli birilli, in velocità, non con la tecnica di dribbling, in velocità, salta gli avversari, va via e praticamente dice vai, vai Neymar, fai gol per me, fai gol per me. Lì sul tabellone hanno scritto Neymar, ma sappiamo noi bene chi ha segnato, chi ha segnato poi quel gol. Ripeto, PSG che si è visto pochissimo nella prima fase, un po' di più nel secondo tempo, a sprazzi, cioè in due minuti hanno creato due occasioni, poi di nuovo nulla, poi nel finale palo, l'ortomondo qualcosa ha concesso, assolutamente ci sta, però, e questo è, ripeto, però ancora una volta il PSG sembra una squadra, un'eterna incompiuta, ecco un'eterna incompiuta, se vogliamo. Poi strano sta fatto di Tuchel che c'hai tanta gente, tanta gente brava, cioè ha fatto un solo cambio Tuchel, un solo cambio, cioè hai Cavani, hai Cardi in pacchina, tanta roba, mi cambi solo Di Maria per mettere Sarabia, Sarabia come cavolo si chiama lui, dai. Non è una cosa che io apprezzo, onestamente, quando si parla di una squadra che ha delle qualità importanti, Draxler, tra le file, tra le seconde linee. Ripeto, anche qui giudizio parziale. Ah, infine, Embrecian, vogliamo parlare di Embrecian, che è un po' sotto il mirino della critica, se vogliamo, oggi è ufficializzato, ufficializzato per quanto riguarda il Dortmund, si vociferava, ma sai, non l'hanno preso, chissà, ufficializzato perché è scattato l'obbligo. Cian, partita di quantità, troppo tardivo in alcune circostanze a dar da palla, troppo tardivo nelle idee di calcio, ma tanta quantità, tanta solidità, tanta presenza, ecco, tanta presenza, se vogliamo, quindi un giocatore che comunque il suo contributo lo dà. Va bene, ragazzi, non mi dilungo, è notte fonda, notte fonda, non è che fossero le tre di notte, però si va a dormire, si va a dormire con una bellissima serata di Champions, ma con una che ne verrà e che è ancora... dove lì porterò in campo anche i sentimenti, perché è una squadra italiana che adoro, che sta facendo Faville, vediamo un po' che combina la Dea domani. Buonanotte, ragazzi, buonanotte, amanti del calcio.